Ciao ragazzi, in questo video concludiamo il discorso sulla scomposizione dei polinomi che abbiamo cominciato nei due video precedenti di questa playlist, dando un'occhiata alla scomposizione mediante il teorema e la regola di Ruffini. Prima di cominciare ricordo a chi non avesse familiarità o non si ricordasse bene la regola o il teorema di Ruffini che ho realizzato dei video specifici su questi argomenti e li trovate tutti all'interno della playlist linkata in descrizione qui sotto e visto che questi argomenti sono il prerequisito per capire bene quello di cui parleremo adesso, può essere una buona idea riguardarsi prima i video a loro dedicati. Senza perdere altro tempo, per capire bene come questo nuovo metodo funziona e come può tornarci utile nella risoluzione degli esercizi, diamo subito un'occhiata ad un esempio e supponiamo che ci venga chiesto di scomporre il polinomio x alla terza più 4x alla seconda più x meno 6. Se diamo un'occhiata al polinomio è facile convincersi che nessuna delle tecniche di cui abbiamo parlato finora purtroppo ci consente di ottenere una scomposizione. Infatti non possiamo fare un raccoglimento totale, visto che il massimo comune divisore di questi termini è 1, non possiamo fare un raccoglimento parziale perché comunque cerchiamo di raccogliere diciamo così a coppie, non riusciamo poi ad ottenere la stessa parentesi e quindi a fare successivo raccoglimento totale, non siamo davanti a nessun prodotto notevole e non si tratta di un trinomio di secondo grado, quindi nessuna delle tecniche di cui abbiamo parlato fino adesso ci consente di cavarcela. Questo polinomio tuttavia è riducibile e quindi come possiamo fare per ottenere una scomposizione? Beh, l'idea è sostanzialmente quella di osservare che se andiamo a sostituire 1 al posto della x all'interno del polinomio, ovvero se ci calcoliamo p di 1, il risultato viene uguale a 0. Infatti se mettiamo 1 al posto di ciascuna x dentro il nostro polinomio, vedete che si ottiene 1 al cubo più 4 volte 1 al quadrato più 1 meno 6 e questo dà come risultato proprio 0. Dunque si dice che 1 è uno 0 oppure equivalentemente è una radice del nostro polinomio. E cosa ce ne facciamo di sapere che 1 è uno 0 del nostro polinomio? Beh, se vi ricordate il teorema di Ruffini, di cui abbiamo parlato in uno dei video precedenti di questa playlist, ci garantisce a questo punto che il nostro polinomio è divisibile per x meno 1 e naturalmente possiamo sfruttare questo fatto per ottenerne la scomposizione. Se infatti prendiamo il nostro polinomio e tramite la regola di Ruffini lo dividiamo per x meno 1, vedete che si conclude facilmente che il resto della divisione è 0 e questo naturalmente era già chiaro, visto che il polinomio come si diceva è divisibile per x meno 1, ma cosa interessante concludiamo che il quoziente di questa divisione sarà x alla seconda più 5x più 6. Infatti se ricordate quando costruiamo questa specie di schema per applicare la regola di Ruffini, i numeri che si ottengono alla fine qui in basso sono proprio i coefficienti del polinomio quoziente. Dunque possiamo concludere che il polinomio x alla terza più 4x quadro più x meno 6 si può riscrivere come x meno 1 moltiplicato per x alla seconda più 5x più 6 il tutto più 0, ovvero si può riscrivere come prodotto tra il divisore x meno 1 e il quoziente di cui ci siamo appena ricavati i coefficienti e basta sostanzialmente, visto che il resto della divisione come si diceva è 0 e quindi è sostanzialmente inutile aggiungerlo. A questo punto vedete la parte difficile è finita e per vincere non ci resta che cercare di scomporre questo x quadrato più 5x più 6 e per fare questo come abbiamo visto nel video precedente ci basta cercare due numeri interi che hanno prodotto 6 e somma 5 e se ci pensiamo un attimo questi due numeri sono 2 e 3. Ne seguo quindi che x quadrato più 5x più 6 possiamo riscrivercelo come x più 2 per x più 3 e quindi quella che abbiamo ottenuto qui è la scomposizione del nostro polinomio. Volendo quindi ricapitolare, per scomporre un polinomio utilizzando il teorema e la regola di Luffini si procede così. Prima di tutto si cerca uno 0 del polinomio, cioè un valore che sostituito al posto della variabile renda il polinomio uguale a 0. A questo punto si procede a dividere il polinomio per x meno lo 0, cioè questo valore che abbiamo appena trovato e nel fare questa divisione si utilizza la regola di Luffini. Una volta trovato il quoziente si riscrive il polinomio come prodotto tra il divisore e il quoziente che abbiamo appena trovato e nel caso in cui il quoziente sia ulteriormente scomponibile, si procede naturalmente alla sua scomposizione. Naturalmente la domanda che alcuni di voi si staranno giustamente facendo è come faccio a trovare uno 0 del polinomio, perché naturalmente non posso mettermi a provare a sostituire valori a caso all'interno del polinomio sperando che alla fine il totale faccia 0. Ed ecco, a questo proposito si può dimostrare che gli eventuali 0 interi di un polinomio a coefficienti interi come quello di cui parlavamo poco fa vanno ricercati all'interno dei divisori del termine noto del polinomio. Quindi se esistono degli 0 interi fanno parte dei divisori del termine noto, che nell'esempio che abbiamo visto prima era meno 6. A questo proposito, per fissare meglio le idee, supponiamo che ci venga chiesto di scomporre questo nuovo polinomio qui. Come in esempio precedente non funzionano né il raccoglimento totale né il raccoglimento parziale. Non possiamo usare i prodotti notevoli e non ci troviamo davanti ad un trinomio di secondo grado. Dunque l'unica soluzione è cercare di procedere come abbiamo visto poco fa. Per farlo dobbiamo innanzitutto cercare uno 0 di questo polinomio e come si diceva prima, gli eventuali 0 interi di un polinomio come questo vanno ricercati tra i divisori del termine noto del polinomio. Nel nostro caso il termine noto è 3 e quindi i possibili 0 interi sono solamente i divisori di 3, quindi più o meno 1 e più o meno 3. Appurato questo, quello che uno sostanzialmente fa è quindi provare a calcolarsi i valori che il polinomio assume in più o meno 1 e più o meno 3, sperando che in corrispondenza di almeno uno di questi il polinomio si annulli e di poter quindi procedere come abbiamo visto prima. Se proviamo ad esempio a calcolarci P di 3, andando a sostituire 3 al posto della x all'interno del polinomio, si vede facilmente che si ottiene 24, dunque 3 non è uno 0 del polinomio. Se invece sostituiamo meno 3 e quindi ci calcoliamo P di meno 3, si vede facilmente che in totale il risultato viene 0 e questo ci dice che meno 3 è uno 0 del polinomio. Senza quindi procedere oltre con il calcolo di P di 1 e P di meno 1, possiamo subito concludere, alla luce di quello che dicevamo prima, che il nostro polinomio è divisibile per x meno meno 3, cioè per x meno lo 0, ovvero in questo caso per x più 3. E se facciamo la divisione con la regola di Ruffini, come vedete si conclude che il resto è 0 e che il quoziente è x quadrato meno 2x più 1. Di conseguenza possiamo riscriverci il nostro polinomio come prodotto tra x più 3, ovvero il divisore, e x quadrato meno 2x più 1, ovvero il quoziente. E a questo punto, come dicevamo prima, non resta che chiedersi se il quoziente che abbiamo ottenuto è ulteriormente scomponibile oppure no. In questo caso si vede facilmente che si tratta del quadrato del binomio x meno 1 e quindi possiamo concludere che il nostro polinomio si scompone in questo modo qui. Per concludere, volevo poi dirvi che a volte può capitare che il polinomio non abbia zeri interi e che quindi quando si vanno a sostituire tutti i divisori del termine noto non si riesca a trovare alcuno 0. In questo caso è una buona idea controllare se ci sono eventuali zeri razionali, cioè se ci sono delle frazioni che sostituite al posto della variabile rendono il polinomio uguale a 0. E a questo proposito si può dimostrare che gli eventuali zeri razionali di un polinomio a coefficienti interi hanno cercati tra le frazioni aventi come numeratore un divisore del termine noto del polinomio e aventi invece come denominatore un divisore del coefficiente del termine di grado massimo del polinomio. Per capire meglio questa cosa che può apparire un pochino complicata diamo subito un'occhiata ad un esempio. Come vedrete è in realtà molto semplice. Supponiamo quindi che ci venga chiesto di scomporre questo polinomio che vedete qui. Come negli esempi precedenti il raccoglimento totale e il raccoglimento parziale qui non funzionano, non possiamo utilizzare i prodotti notevoli e non ci troviamo davanti ad un trinomio di secondo grado. Quindi l'unico modo è procedere con ruffini come abbiamo visto. La prima cosa da fare è a questo punto cercare se ci sono degli zeri interi e come abbiamo imparato prima gli eventuali zeri interi sono divisori del termine noto del polinomio. In questo caso il termine noto vedete è meno 1 quindi i possibili zeri interi possono essere soltanto più 1 e meno 1. Se però ci calcoliamo p di 1 e p di meno 1 concludiamo che nel primo caso viene 3 e nel secondo caso viene meno 3 e quindi nessuno di questi due valori è uno 0 del polinomio. Prima di gettare la spugna proviamo a questo punto a vedere se ci sono degli zeri razionali cioè se ci sono delle frazioni che sostituite al posto della x rendono il totale qui uguale a 0. E per farlo quali frazioni dobbiamo provare? Beh come si diceva poco fa quelle che hanno come numeratore un divisore del termine noto del polinomio che nel nostro caso è meno 1 e i suoi divisori come abbiamo visto sono più e meno 1 e come invece denominatore un divisore del coefficiente del termine di grado massimo del polinomio e nel nostro caso il termine di grado massimo è questo qui e il suo coefficiente come vedete è 2 i cui divisori sono più o meno 1 e più o meno 2. Ne segue quindi che le eventuali frazioni che dobbiamo provare a sostituire cioè gli eventuali candidati zeri razionali sono solo le frazioni che hanno al numeratore un più o meno 1 e al denominatore un più o meno 1 o un più o meno 2 cioè i divisori di questo 2 che compare qui e quindi tolti più e meno 1 di cui ci siamo già occupati prima le uniche altre due frazioni che dobbiamo provare a sostituire sono a questo punto un mezzo e meno un mezzo e vedete se ci calcoliamo p di un mezzo effettivamente si scopre che il risultato viene zero quindi un mezzo è uno zero del nostro polinomio se invece proviamo a sostituire meno un mezzo facendo i calcoli vedete si scopre che il risultato è meno tre mezzi quindi meno un mezzo non va bene lui non è uno zero. Appurato quindi che un mezzo è uno zero del nostro polinomio possiamo allora dividere il polinomio per x meno un mezzo applicando la regola di Ruffini e concludere che il nostro polinomio possiamo descrivercelo come x meno un mezzo moltiplicato per questo qui che sarebbe come vedete il quoziente della divisione. Per concludere in questa parentesi possiamo a questo punto fare un raccoglimento totale del 2 e vedete che otteniamo quindi 2 per x quadrato più x più 1 e volendo a questo punto il 2 possiamo moltiplicarlo per la prima parentesi che diventa quindi un 2x meno 1. Ne seguo quindi che il nostro polinomio lo possiamo scomporre in questo modo e questo x quadrato più x più 1 che se ricordate avevamo chiamato a suo tempo un falso quadrato sappiamo che non è ulteriormente scomponibile a meno di non scomodare i numeri complessi. Detto questo ragazzi io per il momento ho terminato nel prossimo video vedremo alcuni esercizi di riepilogo su tutte le tecniche di scomposizione che abbiamo visto in questo video e nei due video precedenti. Come sempre se trovate utili queste lezioni ricordatevi di mettere mi piace passate a trovarmi su facebook ed instagram e se non l'avete già fatto iscrivetevi al canale dove presto arriveranno moltissimi altri video